Due milioni di persone povere nei prossimi quattro mesi rischiano di non avere sufficienti aiuti alimentari. Infatti, mentre le richieste di aiuto aumentano continuamente, nei magazzini della rete Banco Alimentare diminuisce la disponibilità di cibo. Per questo motivo, sabato 14 giugno, si è tenuta in tutta Italia una edizione straordinaria della colletta alimentare. Davanti ai supermercati che hanno aderito all'iniziativa, i volontari della rete hanno raccolto gli acquisti donati dalla gente. Acquisti che poi verranno distribuiti alle 8.800 strutture caritative convenzionate, che ogni giorno assistono circa 2 milioni di poveri. Si è resa necessaria questa raccolta straordinaria, innanzitutto perché la domanda da parte di persone indigente è notevolmente aumentata nell'ultimo periodo. In secondo luogo, anche perché da parte della comunità europea, che appunto sosteneva i vari enti come il Banco Alimentare per l'aiuto alle persone bisognose, sono venute a mancare. Quindi il magazzino adesso è vuoto e quindi noi abbiamo proprio avuto la necessità di fare questo gesto caritativo per continuare proprio l'aiuto alle persone che si rivolgono con insistenza. Quindi il bisogno di queste persone lo abbiamo fatto nostro facendo questa nuova raccolta. La gente risponde positivamente, anche se siamo colpiti da come anche le persone che apparentemente potrebbero essere bisognose aiutano. E quindi sentono questo bisogno come loro, quindi capendo la necessità che hanno loro, diciamo c'è una risposta positiva. Nonostante sia caldo, nonostante sia il 14 di giugno, la risposta è stata positiva.